È una terapia sperimentale che ha dato ottimi risultati nella cura dei pazienti affetti da coronavirus, ma il plasma iperimmune inizia a scarseggiare, così come i medici e i tecnici, nei centri trasfusionali. A lanciare un appello oggi è stato il presidente di Avesfano, Marco Savelli, che nella sede di Via San Francesco, insieme al direttivo, ha consegnato una benemerenza al sindaco di Fano, Massimo Seri, ex presidente dell'associazione che ha superato le 80 donazioni di sangue e plasma. Per me è motivo di orgoglio e vuole essere anche un esempio per tante persone. Fano una città molto sensibile per quello che riguarda la donazione, perché negli anni sono stati tanti, le cittadine e i cittadini che sono diventati donatori hanno donato tanto. Però ecco, l'occasione è anche per fare un appello a tutti i concittadini. Stiamo attraversando un momento difficile, pensiamo tutti al Covid, ma le altre malattie non si sono interrotte, e quindi c'è bisogno ancora di assistenza. E non dimentichiamoci che il sangue è un farmaco salvavita che non può essere prodotto in laboratorio, può essere solo donato. Ed è importante che le persone lo facciano. Allora, ecco, fate come ho fatto io in questi anni, come ho già prenotato la prossima donazione. Invito tutti coloro che possono farlo, di fare questo gesto, che è un gesto straordinario, ma sapendo che si fa veramente il bene di altri e in alcuni casi si salvano veramente delle vite. Di fronte al monumento alla vita nella piazzetta donatori di sangue, Marco Savelli ha poi annunciato importanti novità su plasma iperimmune, considerato come uno dei trattamenti più efficaci per combattere il virus grazie agli anticorpi presenti nei soggetti guariti dal Covid. Per maggiori dettagli sulle donazioni si può contattare la Visfano a questo numero di telefono. Nei giorni scorsi, fa sapere il Presidente, la Commissione Europea ha approvato un progetto che coinvolge 13 regioni italiane, tra cui le Marche, per aumentare la produzione di plasmi per immune. L'iniziativa ha un duplice scopo di garantire il trattamento al maggior numero di pazienti nelle diverse fasi cliniche e di sviluppare immunoglobuline per la terapia e la profilassi passiva di soggetti più esposti o fragili. Il primario, il dottor Carlo Pazzaglia, ci ha comunicato che le sacche prodotte dai nostri donatori, dai nostri pazienti donatori, nel mese di aprile e maggio, stanno quasi terminando. Proprio per questo principio di solidarietà che è Avis, che contraddistingue la nostra associazione, Avis a livello ampio, a livello nazionale e anche a livello regionale, non solo locale, queste sacche sono finite presso gli ospedali della nostra regione, prevalentemente Fermo e Ascoli Piceno, anche perché loro nel periodo di marzo hanno avuto meno pazienti donatori rispetto a noi. Quindi vogliamo mandare un messaggio a tutti coloro che sono stati colpiti dal Covid e in questo momento stanno finendo la loro degenza dalla malattia, di avvicinarsi alla donazione del plasma per immune, perché ancora di più è importante in questo periodo veramente complesso dovuto a questa birichina malattia. Quindi avvicinati anche coloro che non sono ad oggi donatori, siete stati colpiti dal Covid, venite a donare il plasma per immune, perché è veramente una malattia salvavita.